Ciao spregiosi, io come sempre sono M e questa è una nuova puntata di M.T.E. dedicata al cinema. Il film di oggi è un calderone di tante cose già viste e per nulla originale. Si tratta di The Lone Ranger. Quando sono andato a vedere questo film al cinema, mi aspettavo che portasse giusto a casa il risultato. Invece questa cozzaglia di cose già viste mi ha letteralmente stupito. Ora vi aspetterete che vi dicessi che mi ha fatto schifo. Sbagliato! Ogni minuto che passava mi piaceva sempre di più. Infatti, sebbene la storia sia banale, citofonata e senza particolari colpi di scena, il vero punto di forza è il ritmo ilcanzante e di susseguirsi degli eventi e il modo assurdo e surreale in cui gli stessi si sviluppano. Il fatto poi che non si prendono mai sul serio, piazzando battute in momenti impensati, è un'aggiunta non da poco. Il cavallo! No! Cioè, il cavallo! Praticamente hanno preso lo stile dei Pirati dei Caraibi e lo hanno riadattato al western aggiungendovi un pizzico da Wild Wild West. La fotografia mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta nei campi lunghi e nei tagli in classico stile western. Veramente incredibile. Quello che non mi è piaciuto invece è la caratterizzazione dei nativi americani, che sono sembrati stereotipati e buttati lì con l'unico scopo di sembrare rassegnati al fatto che l'uomo bianco avrebbe preso il sopravvento su di loro. Rendiamoci conto che sono stati sterminati per interessi e senza riguardi, ma per fortuna almeno in uno o due brevi tratti sembrano ricordarlo. Anche per oggi abbiamo finito, ricordatevi di mettere qua sotto il mi piace e lasciate pure i vostri commenti che sono sempre più che graditi. Qui M chiude e alla prossima Spragiosi! Ciao ciao!